ok raga scusate se lo faccio un bagno post partito ma era l'unico modo per farlo perché avendo casa piccola facendo un salone mio padre si sarebbe svegliato e mio padre sta dormendo comunque dicevo è da poco finita Roma-Savisburgo vinciamo 2-0 con di Belotti e di Pala raga sono felicissimo perché dobbiamo vincere però magari di là in salone ora magari proverò a fare i sorteggi se non mi spostrino in bagno anche per i sorteggi non vediamo per quanto i sorteggi di Europa League e Conferenze League ci saranno domani e al massimo domani vi faccio uscire entrambi comunque la Roma-Savisburgo 2-0 grandissima prestazione non abbiamo mai mollato siamo rimasti sempre concentrati abbiamo concesso solo gli ultimi 15 minuti al Salisburgo una grandissima vittoria appunto speriamo bene raga io lo dicevo che potevamo passare siamo passati Europa League e Conferenze League hanno fatto un play-in cioè raga poi agli ottavi di Champions tutte le italiane hanno vinto se vincono anche a ritorno e quindi passano e agli ottavi di Europa League passano tutte agli ottavi di Europa League Conferenze League passano tutte le italiane sarebbero 7 squadre italiane tutte e 7 ancora in gioco cioè fino ai quarti delle proprie competizioni quindi sarebbe il top comunque raga per questo video non lascia il like iscrivetevi e attivate la campanella sempre e comunque forza Roma dai grazie a tutti grazie a tutti